ciao ragazzi ora oggi vi mostrerò come giocherò a fruit ninja il mio record è di 105 ciao 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 grande ragazzi sto battendo il record è pazzesco ragazzi è pazzesco dai 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 bello per tre combo dai dai ragazzi forza forza bello per 5 sì ho preso la banana la banana blocca tempo la banana blocca tempo vai ragazzi la banana blocca tempo non ho preso la bomba dai bello per sei è pazzesco ragazzi per sei 0 secondi vai 13 il mio totale è di 40 e il mio record è di 105 che ho fatto la partita precedente e lo vedrete su youtube ciao ciao